Turismo bellunese presentati ai consorzi gli esiti degli incontri territoriali di giugno nell'ambito del piano Vivere le Dolomiti. La provincia e la DMO Dolomiti hanno incontrato i soci per fornire un aggiornamento sulle diverse azioni in corso e soprattutto gli esiti degli incontri territoriali che lo scorso giugno hanno toccato tutte le vallate. In quell'occasione erano state raccolte le necessità, le criticità e anche le idee degli operatori nell'ottica anche delle mutate condizioni del turismo in seguito al covid. L'incontro di martedì ha consentito di presentare le esigenze strategiche, ovvero quelle di maggiore importanza comune nei diversi territori e vallate della provincia. E si è parlato di futuro, saranno attivati durante il mese di novembre alcuni tavoli tematici rivolti in particolare agli operatori dei consorzi per aumentarne la collaborazione e la competitività dell'organizzazione turistica di destinazione. Tra i temi di maggior interesse, accoglienza e coordinamento uffici yacht, design del prodotto turistico, strategie e strumenti per la diffusione online. È inoltre previsto un workshop rivolto a illustrare nel dettaglio l'indagine svolta su più di 2.000 turisti nazionali ed esteri per comprendere più a fondo la loro percezione su ciò che può attrarre i potenziali visitatori. A questo seguirà la pubblicazione di alcuni bandi per organizzare e declinare a livello territoriale le attività di promozione della destinazione turistica del valore di circa un milione di euro. Soddisfatto il consigliere provinciale delegato al turismo della provincia di Belluno, bisogna lavorare insieme per arrivare all'obiettivo, ha affermato soprattutto dopo che il virus ha stravolto il settore del turismo, con la DMO come braccio operativo fondamentale nel ruolo di coordinamento dei consorzi. Abbiamo sempre cercato una condivisione ampia con il territorio e con la regione Veneto, ora bisogna pedalare uniti per farci trovare pronti di fronte alle nuove sfide che il turismo ci metterà davanti. Grazie a tutti.